VANGELO SECONDO GIOVANNI In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e Dio era il Verbo. Questi era in principio presso Dio. Tutto per mezzo di Lui fu fatto, e senza di Lui non fu fatto nulla di ciò che è stato fatto. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce nelle tenebre brilla, e le tenebre non la compresero. Ci fu un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Questi venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma per rendere testimonianza alla luce. Era la luce vera, che illumina ogni uomo, quella che veniva nel mondo. Era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, e il mondo non lo riconobbe. Venne nella sua proprietà, e i suoi non lo accolsero. A quanti però lo accolsero, diede il potere di divenire figli di Dio. A coloro che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio, furono generati. E il Verbo si fece carne, e dimorò fra noi, e abbiamo visto la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni rende testimonianza a Lui e proclama Questi era colui di cui dissi Colui che viene dopo di me, ebbe la precedenza davanti a me, perché era prima di me. Della sua pienezza, infatti, noi tutti ricevemmo, e grazia su grazia. Poiché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità divennero realtà per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha visto mai. L'unigenito Dio che nel seno del Padre, Egli lo ha rivelato. Ora, questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli mandarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per domandargli «Tu chi sei?» E professò, e non negò, e professò «Io non sono il Cristo». Gli domandarono «Chi sei tu allora? Sei Elia?» Egli dice «Non lo sono». «Sei il profeta?» Rispose «No». Gli dissero allora «Chi sei?» Che possiamo dare una risposta a chi ci ha inviati. «Cosa dici di te stesso?» Affermò «Io sono voce di uno che grida nel deserto». Raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Esaia. Essi erano stati mandati dai farisei. Costoro gli domandarono ancora «Perché dunque battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Rispose loro Giovanni «Io battezzo con acqua. In mezzo a voi sta colui che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, di cui non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo». Questi fatti avvennero a Betania, al di là del Giordano, dove c'era Giovanni che battezzava. L'indomani vede Gesù venirgli incontro e dice «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui di cui ho detto. Colui che viene dopo di me, ebbe la precedenza davanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma proprio perché fosse rivelato a Israele, sono venuto a battezzare con acqua». Poi Giovanni testimoniò «Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba, e si fermò sopra di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse «Colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui, è lui che battezza con lo Spirito Santo. E io l'ho visto, e ho testimoniato che lui è il Figlio di Dio». L'indomani, Giovanni si trovava ancora là con due dei suoi discepoli. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, egli dice «Ecco l'agnello di Dio». I due discepoli lo sentirono parlare così e seguirono Gesù. Gesù, voltosi e visti i due discepoli che lo stavano seguendo, dice loro «Che cercate?» Gli dissero «Rabbì, che tradotto significa maestro, dove stai? Venite e vedrete», disse loro. Andarono e vidono dove stava, e quel giorno stettero presso di lui. Era circa l'ora decima. Andrea, fratello di Simone Pietro, era uno di quei due che avevano ascoltato Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli trova anzitutto suo fratello Simone e gli dice «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto significa Cristo. Lo condusse a Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse «Tu sei Simone, figlio di Giovanni. Ti chiamerai Cefa», che si traduce Pietro. L'indomani decise di partire per la Galilea e trova Filippo. Gesù gli dice «Seguimi». Filippo era di Bezzaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trova Natanaele e gli dice «Quello di cui hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, noi l'abbiamo trovato. Gesù, figlio di Giuseppe da Nazareth». Da Nazareth, gli disse Natanaele, «Può venire qualcosa di buono?» Gli dice Filippo, «Vieni e vedi». Gesù vide Natanaele venirgli incontro e dice di lui «Ecco un autentico israelita in cui non c'è falsità». Gli dice Natanaele «Donde mi conosci?» Gli rispose Gesù «Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico». Gli rispose Natanaele «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù «Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, credi? Vedrai cose ben più grandi». Poi soggiunse «In verità, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e discendere sul figlio dell'uomo». Tre giorni dopo ci fu una festa di nozze in Cana di Galilea e c'era là la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli dice «Non hanno più vino». «Le dice Gesù «Che vuoi da me, oh donna? Non è ancora venuta la mia ora». Sua madre dice ai servi «Fate quello che vi dirà». C'erano là sei giare di pietra per le abluzioni dei giudei, capaci da due a tre metrete ciascuna. Dice loro Gesù «Riempite le giare di acqua». Le riempirono fino all'orlo. Dice loro «Ora attingete e portatene al direttore di mensa». Essi ne portarono. Come il direttore di mensa ebbe gustata l'acqua divenuta vino, egli non sapeva ad onde veniva, mentre lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli dice «Tutti presentano dapprima il vino buono e poi, quando si ebrilli, quello scadente. Tu hai conservato il vino buono fino ad ora». Questo inizio dei segni fece Gesù in Cana di Galilea e rivelò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto discese a Cafarnao, lui, sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e rimasero là non molti giorni. Era prossima la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio i venditori di buoi, di pecore e di colombe e i cambiavalute seduti e fattasi una frusta di funicelle scacciò tutti dal tempio, anche le pecore e i buoi. Disseminò il denaro dei cambiavalute, rovesciò i banchi e disse ai venditori di colombe, «Portate via questa roba di qui e non fate della casa del padre mio una casa di mercato». Si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto, «Lo zelo della tua casa mi divorerà». Gli risposero allora i Giudei e gli domandarono, «Quale segno ci mostri per agire così?» Gesù replicò loro, «Distruggete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere». Dissero allora i Giudei, «In 46 anni fu costruito questo santuario e tu in tre giorni lo farai risorgere». Egli però parlava del santuario del suo corpo. Perciò quando risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù. Mentre egli si trovava a Gerusalemme durante la festività della Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni che egli faceva. Gesù però diffidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che altri testimoniasse sull'uomo. Egli infatti sapeva ciò che vi era nell'uomo. C'era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da lui di notte e gli disse «Rabbì, noi sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui». Rispose Gesù «In verità, in verità ti dico se uno non è nato dall'alto non può vedere il regno di Dio». Gli dice Nicodemo «Come può un uomo nascere se è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose «In verità, in verità ti dico se uno non è nato dall'acqua e dallo spirito non può entrare nel regno di Dio. Il nato dalla carne è carne e il nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti che ti abbia detto «Voi dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole senti il suo simbilo ma non sai donde viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito». «Come possono avvenire questi fatti?» riprese Nicodemo. Rispose Gesù «Tu sei maestro in Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità ti dico noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se non credete quando vi ho detto cose terrene come crederete qualora vi dica cose celesti? Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo che è in cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto così deve essere innalzato il figlio dell'uomo affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il figlio suo unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio infatti non mandò il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non viene condannato. Chi non crede in lui è già condannato perché non ha creduto nel nome del figlio unigenito di Dio. ora il giudizio è questo. La luce venne nel mondo ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano smascherate. colui invece che fa la verità viene alla luce perché si riveli che le sue opere sono operate in Dio. In seguito Gesù e i suoi discepoli vennero nel territorio della Giudea e lì si trattenne con loro e battezzava. Anche Giovanni stava battezzando a Ennon vicino a Salim perché là le acque erano abbondanti e la gente accorreva e si faceva battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato messo in prigione. Sorse allora una disputa fra i discepoli di Giovanni e un giudeo a proposito della purificazione. Andarono da Giovanni e gli dissero Rabbì colui che era con te al di là di Giordano cui tu hai reso testimonianza ecco che battezze tutti vanno da lui. Rispose Giovanni non può un uomo prendere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto non sono io il Cristo ma sono colui che è stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo ma l'amico dello sposo che gli sta vicino e l'ascolta è ripieno di gioia per la voce dello sposo. Questa gioia che è la mia ora è perfetta. Egli deve crescere io invece diminuire. Colui che viene dall'alto è sopra di tutti. colui che è dalla terra appartiene alla terra e parla da uomo della terra. Colui che viene dal cielo è sopra di tutti. Egli testimonia ciò che ha visto e udito ma nessuno accoglie la sua testimonianza. Colui che accoglie la sua testimonianza ratifica che Dio è verace. Infatti colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio poiché dà lo spirito senza misura. Il padre ama il figlio e ha rimesso tutto nella sua mano. Chi crede nel figlio ha la vita eterna. Chi invece disobbedisce al figlio non vedrà la vita ma l'ira di Dio è sopra di lui. Quando Gesù seppe che i farisei avevano sentito che egli faceva più discepoli e battezzava più di Giovanni per quanto non fosse Gesù stesso che battezzava ma i suoi discepoli lasciò la Giudea e ritornò verso la Galilea. Egli doveva passare per la Samaria. Ora arriva ad una città della Samaria chiamata Sicar vicino al podere che Giacobbe aveva dato al figlio suo Giuseppe. C'era là il pozzo di Giacobbe. Gesù affaticato come era dal viaggio si era seduto sul pozzo era circa l'ora sesta. Viene una donna della Samaria ad attingere acqua. Le dice Gesù dammi da bere. I discepoli infatti se ne erano andati in città a comprare da mangiare. Gli dice la donna samaritana come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Le rispose Gesù se tu le rispose Gesù colui colui che beve di quest'acqua avrà ancora sete colui invece che beve dell'acqua che gli darò io non avrà mai più sete ma l'acqua che gli darò diverrà in lui una sorgente di acqua che zampilla verso la vita eterna. Signore gli dice la donna dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non debba più venire qui ad attingere. Le dice va chiama tuo marito e ritorna qui. Non ho marito gli rispose la donna. Le dice Gesù hai detto bene non ho marito perché hai avuto cinque mariti e ora quello che hai non è tuo marito quanto a questo hai detto il vero. Signore dice la donna vedo che tu sei un profeta i nostri padri adorarono su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Li dice Gesù credimi donna che viene un'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il padre voi adorate ciò che non conoscete noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei ma viene un'ora ed è adesso in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità infatti il padre cerca tali persone che l'adorino Dio Dio e spirito e coloro che lo adorano in spirito e verità devono adorarlo gli dice la donna so che deve venire un messia che significa Cristo quando quegli verrà ci annuncerà ogni cosa le dice Gesù lo sono io che ti parlo a questo punto arrivarono i suoi discepoli e rimasero meravigliati che parlasse con una donna nessuno però disse che vuoi tu da lei oppure perché parli con lei la donna intanto abbandonò la sua giara andò in città e disse alla gente venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto non sarà forse lui il Cristo uscirono dalla città e andavano verso di lui nel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo rabbì mangia ma egli disse loro io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete i discepoli dicevano fra loro che qualcuno gli abbia portato da mangiare dice loro Gesù mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera non dite voi ancora quattro mesi e viene la mietitura ecco vi dico alzate i vostri occhi e osservate i campi sono bianchi per la mietitura già il mietitore riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna affinché il seminatore goda insieme al mietitore in questo caso infatti è vero il proverbio diverso è chi semina da chi miete io vi ho mandati a mietere ciò per cui voi non avete faticato altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che aveva attestato mi ha detto tutto ciò che ho fatto quando i samaritani arrivarono da lui lo pregavano di rimanere presso di loro e vi rimase due giorni furono ancora più numerosi coloro che credettero per la sua parola alla donna dicevano non crediamo più per il tuo discorso noi stessi infatti abbiamo udito e sappiamo che è veramente lui il salvatore del mondo dopo questi due giorni ripartì di là per la Galilea Gesù stesso infatti aveva testimoniato un profeta non gode alcun credito nella propria patria ora quando Gesù arrivò in Galilea i Galilei lo accolsero bene avendo visto tutte le cose che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa poiché anch'essi erano andati alla festa Gesù tornò dunque a Cana di Galilea dove aveva cambiato l'acqua in vino c'era un funzionario regio il cui figlio era malato a Cafarnao avendo egli saputo che Gesù era venuto dalla Giudea alla Galilea si recò da lui e lo pregava di scendere e guarire il figlio suo perché stava per morire Gesù gli disse se non vedete segni e prodigi voi non credete gli dice il funzionario regio scendi prima che il mio ragazzo muoia gli dice Gesù va tuo figlio vive quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e partì mentre egli già scendeva i suoi servi gli andarono incontro dicendogli che suo figlio viveva allora chiese informazioni sull'ora in cui aveva cominciato a stare meglio gli risposero la febbre lo lasciò ieri all'ora settima il padre riconobbe che quella era l'ora in cui Gesù gli aveva detto tuo figlio vive e credette lui e la sua famiglia al completo Gesù compì questo secondo segno ritornando dalla Giudea alla Galilea dopo questi avvenimenti c'era una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme a Gerusalemme presso la porta delle pecore c'è una piscina chiamata in ebraico Bethesda con cinque portici sotto questi portici giaceva una moltitudine di infermi ciechi zoppi e invalidi che aspettavano il movimento dell'acqua un angelo infatti ad intervalli scendeva nella piscina e agitava l'acqua il primo ad entrarvi dopo l'agitazione dell'acqua guariva da qualsiasi malattia c'era là un uomo infermo da trentotto anni Gesù vistolo disteso e saputo che si trovava già da molto tempo in quello stato gli dice vuoi guarire gli rispose l'infermo signore non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua viene agitata e mentre io mi avvio per andare un altro vi scende prima di me gli dice Gesù alzati prendi il tuo giaciglio e cammina l'uomo fu guarito all'istante prese il suo giaciglio e camminava ma quel giorno era sabato dicevano dunque i giudei al guarito è sabato e non ti è lecito portare il tuo giaciglio e gli rispose loro colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo giaciglio e cammina gli domandarono chi è l'uomo che ti ha detto prendi e cammina ma colui che era stato guarito non sapeva chi era perché Gesù si era ecclissato grazie alla folla che c'era in quel luogo più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse ecco che sei guarito non peccare più perché non ti avvenga di peggio l'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che l'aveva guarito per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva queste cose di sabato ma Gesù rispose loro mio padre è all'opera fino ad ora ed anch'io sono all'opera per questo i giudei cercavano ancora più di ucciderlo perché non solo violava il sabato ma diceva che Dio era suo padre facendo se stesso uguale a Dio Gesù rispose e diceva loro in verità in verità vi dico il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede il padre fare ciò infatti che fa lui lo fa ugualmente il figlio il padre infatti ama il figlio e gli mostra tutto ciò che egli fa ed opere più grandi di queste gli mostrerà in modo che voi ne rimaniate stupiti come infatti il padre risuscita i morti e dà la vita così anche il figlio dà la vita a coloro che vuole il padre infatti non giudica nessuno ma ha dato tutto il giudizio al figlio affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre colui che non onora il figlio non onora il padre che l'ha mandato in verità in verità vi dico chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non incorre nel giudizio ma è passato dalla morte alla vita in verità in verità vi dico viene un'ora ed è adesso in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e coloro che l'avranno ascoltata vivranno come infatti il padre ha la vita in se stesso così ha dato anche al figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di fare il giudizio perché è figlio dell'uomo non stupitevi di ciò viene un'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce e coloro che hanno fatto il bene ne usciranno per la risurrezione della vita coloro che hanno praticato il male per la risurrezione del giudizio io non posso fare nulla da me stesso come ascolto giudico e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato se io rendo testimonianza a me stesso la mia testimonianza non è valida c'è un altro che mi rende testimonianza e so che è vera la testimonianza che mi rende voi avete inviato una delegazione a Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità io però non accetto la testimonianza di un uomo ma dico questo perché voi siate salvati egli era la lampada ardente e splendente e vi siete voluti rallegrare per poco alla sua luce ma io ho l'altra testimonianza più grande di quella di Giovanni cioè le opere che il padre mi ha dato da portare a compimento queste stesse opere che io faccio mi rendono testimonianza che il padre mi ha mandato e anche il padre che mi ha mandato mi ha reso testimonianza voi non avete mai ascoltato la sua voce ne avete mai visto la sua figura e non avete la sua parola che rimane in voi perché voi non credete a colui che egli ha mandato voi scrutate le scritture perché per mezzo di esse pensate di avere la vita eterna sono proprio esse che mi rendono testimonianza ma voi non volete venire a me per avere la vita io non accetto la gloria dagli uomini ma io vi ho conosciuto non avete in voi l'amore di Dio io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi accogliete se venisse un altro nel suo proprio nome lo accogliereste come potete credere voi che vi glorificate gli uni gli altri e non cercate la gloria che avviene dal solo Dio non pensate che io vi accuserò davanti al padre il vostro accusatore è Mosè nel quale voi avete riposto la vostra speranza se infatti credeste a Mosè anche a me credereste perché di me egli ha scritto se non credete alle scritture di lui come credete crederete alle mie parole poi Gesù se ne andò dall'altra parte del mare di Galilea di Tiberiade lo seguiva molta gente perché vedevano i segni che faceva sui malati allora Gesù salì sul monte e lì si sedette con i suoi discepoli era prossima la Pasqua la festa dei giudei Gesù alzati gli occhi e vista molta gente venire a sé dice a Filippo da dove potremo comperare pane per sfamare costoro questo lo diceva per metterlo alla prova egli infatti ben sapeva quello che stava per fare gli rispose Filippo 200 denari di pane non bastano per darne un pezzetto a ciascuno gli dice uno dei suoi discepoli Andrea fratello di Simone Pietro c'è qui un ragazzetto che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci ma che cos'è questo per così tanta gente disse Gesù fateli sedere l'erba in quel luogo era abbondante si sedettero dunque gli uomini all'incirca 5.000 Gesù prese allora i pani e rese grazie li distribuì a coloro che erano seduti ugualmente fece dei pesci quanti ne vollero quando poi furono sazi dice ai suoi discepoli raccogliete i pezzi avanzati perché niente vada perduto fecero dunque la raccolta e riempirono 12 ceste di pezzi dei 5 pani d'orzo che erano rimasti a coloro che avevano mangiato visto il segno che aveva fatto quegli uomini dicevano questo è veramente il profeta che deve venire nel mondo ma Gesù saputo che stavano per venire rapirlo per farlo re si ritirò nuovamente sul monte egli solo quando fu sera i suoi discepoli discesero al mare e saliti su una barca salparno verso Cafarnao dall'altra parte del mare erano già calate le tenebre e Gesù non li aveva ancora raggiunti spirando un gran vento il mare era agitato dopo aver remato per circa 25-30 stadi videro Gesù camminare sul mare e avvicinarsi alla barca ed ebbero paura ma egli dice loro sono io non temete vollero allora prenderlo nella barca e la barca subito giunse al luogo cui erano diretti il giorno dopo la gente che stava al di là del mare vide che là non c'era che una sola barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca ma è che i suoi discepoli erano partiti da soli altre barche vennero da Tiberiade vicino al luogo dove avevano mangiato dopo che il Signore aveva reso grazie quando dunque la gente vide che là non c'era né Gesù né i suoi discepoli salì sulle barche e andarono a Cafarnao in cerca di Gesù trovatolo dall'altra parte del mare gli dissero rabbì quando sei arrivato qui rispose loro Gesù in verità in verità vi dico mi cercate non perché avete visto dei segni ma perché avete mangiato pani a sazietà operate non per il cibo che perisce ma per il cibo che rimane per la vita eterna che il figlio dell'uomo vi darà perché su di lui Dio Padre pose il suo sigillo allora gli dissero che cosa dobbiamo fare per operare le opere di Dio rispose loro Gesù questa è l'opera di Dio che crediate in colui che egli ha mandato e gli dissero quale segno fai tu perché vediamo e crediamo in te che cosa operi i nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto come sta scritto ha dato loro da mangiare un pane dal cielo disse loro Gesù in verità in verità vi dico non Mosè vi ha dato il pane dal cielo ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo quello vero il pane dal cielo infatti è colui che dal cielo discende e dà la vita al mondo gli dissero allora Signore dacci sempre questo pane Gesù disse loro io sono il pane di vita chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete ma io ve l'ho già detto mi avete visto e ancora non credete tutto ciò che mi dà il Padre verrà a me e chi viene a me non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato ora questa è la volontà di colui che mi ha mandato che nulla vada perduto di ciò che mi ha dato ma io lo risusciti nell'ultimo giorno questa è infatti la volontà del Padre mio che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna e io lo risusciti nell'ultimo giorno ma i giudei mormoravano di lui perché aveva detto io sono il pane disceso dal cielo e dicevano non è costui Gesù il figlio di Giuseppe di cui conosciamo il padre e la madre come può ora dire sono disceso dal cielo Gesù rispose loro non mormorate fra di voi nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno è scritto nei profeti saranno tutti istruiti da Dio chiunque ha ascoltato il padre e ha accolto il suo insegnamento viene a me non che alcuno abbia visto il padre se non colui che è da Dio lui ha visto il padre in verità in verità vi dico chi crede alla vita eterna io sono il pane della vita i vostri padri hanno mangiato nel deserto la manna e sono morti questo è il pane che discende dal cielo perché lo si mangi e non si muoia io sono il pane vivente disceso dal cielo se qualcuno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo i giudei allora discutevano fra di loro dicendo come può costui darci da mangiare la sua carne disse loro Gesù in verità in verità vi dico se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue non avete la vita in voi chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno la mia carne infatti è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui come mi ha mandato il padre che è il vivente e io vivo grazie al padre così colui che si ciba di me anche egli vivrà grazie a me questo è il pane disceso dal cielo non come quello che mangiarono i padri e sono morti chi si ciba di questo pane vivrà per sempre questi insegnamenti impartì nella sinagoga a Cafarnao dopo aver udito molti dei suoi discepoli dissero questo discorso è duro chi lo può ascoltare Gesù sapendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano a proposito di questo disse loro questo vi scandalizza e quando vedrete il figlio dell'uomo a scendere là dove era prima lo spirito è quello che vivifica la carne non giova a nulla le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita ma ci sono alcuni di voi che non credono Gesù infatti sapeva fin dall'inizio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che l'avrebbe tradito e diceva per questo vi ho detto nessuno può venire a me se non gli è dato dal padre da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui Gesù allora disse ai dodici volete forse andarvene anche voi gli rispose Simon Pietro signore da chi andremo tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo riconosciuto che tu sei il santo di Dio rispose loro Gesù non vi ho scelto io voi dodici eppure uno di voi è un diavolo parlava di Giuda figlio di Simone Iscariota infatti stava per tradirlo proprio lui uno dei dodici in seguito Gesù girava per la Galilea non voleva infatti girare per la Giudea perché i Giudei cercavano di ucciderlo era prossima la festa dei Giudei quella delle capanne gli dissero i suoi fratelli parti di qui e va nella Giudea affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai nessuno infatti agisce in segreto quando cerca di mettersi in mostra se tu fai queste cose manifestati al mondo infatti nemmeno i suoi fratelli credevano in lui Gesù disse loro non è ancora il mio tempo il vostro tempo è sempre disponibile non può il mondo odiare voi invece odia me perché io attesto contro di lui che le sue opere sono malvagie salite voi alla festa io non salgo a questa festa perché il mio tempo non è ancora compiuto detto ciò rimase in Galilea quando i suoi fratelli furono saliti alla festa allora anche egli vi salì non pubblicamente ma quasi in segreto i giudei lo cercavano durante la festa e dicevano lui dov'è e circolavano molte voci a suo riguardo in mezzo alle folle alcuni dicevano è buono altri dicevano no anzi inganna la gente nessuno però parlava pubblicamente di lui per paura dei giudei quando la festa fu a metà Gesù salì al tempio e insegnava i giudei erano stupiti e dicevano come mai costui sa di lettere senza essere stato a scuola Gesù rispose loro la mia dottrina non è mia ma di colui che mi ha mandato se uno vuol fare la sua volontà conoscerà riguardo alla dottrina se è da Dio o se parlo da me stesso colui che parla da se stesso cerca la propria gloria chi invece cerca la gloria di colui che l'ha mandato questi è veritiero e in lui non c'è impostura Mosè non vi ha dato la legge ma nessuno di voi mette in pratica la legge perché cercate di uccidermi rispose la folla tu hai un demonio chi cerca di ucciderti rispose loro Gesù ho fatto una sola opera e tutti rimanete stupiti per questo poiché Mosè ha dato la circoncisione non che sia da Mosè ma dai patriarchi circoncidete una persona anche di sabato se una persona riceve la circoncisione di sabato perché non sia violata la legge di Mosè vi sdegnate contro di me perché ho risanato di sabato una persona intera non giudicate secondo l'apparenza ma giudicate secondo giustizia dicevano allora alcuni gerosolimitani non è questi colui che cercano di uccidere ecco che parla pubblicamente e non gli dicono nulla non avranno forse riconosciuto veramente i capi che questi è il Cristo ma costui sappiamo donde è mentre il Cristo quando viene nessuno sa di dov'è Gesù che insegnava nel tempio proclamò voi mi conoscete e sapete donde sono eppure non sono venuto da me stesso ma è veritiero colui che mi ha mandato che voi non conoscete io lo conosco perché sono da lui ed è lui che mi ha mandato cercavano allora di prenderlo ma nessuno gli mise le mani addosso perché non era ancora giunta la sua ora molti della folla però credettero in lui e dicevano il Cristo quando verrà farà più segni di quello che ha fatto costui i farisei sentirono che circolavano fra il popolo queste voci su di lui e i sacerdoti capi e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo disse allora Gesù ancora un po' di tempo sono con voi poi me ne vado a colui che mi ha mandato mi cercherete e non mi troverete e dove sono io voi non potete venire l'ultimo giorno quello solenne della festa Gesù stava in piedi e proclamò a gran voce se qualcuno ha sete venga a me e beva colui che crede in me come disse la scrittura dal suo ventre sgorgeranno fiumi di acqua viva questo lo disse riferendosi allo spirito che stavano per ricevere coloro che credevano in lui infatti non c'era ancora lo spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato tra la folla coloro che avevano udito queste parole dicevano questo è veramente il profeta altri dicevano questo è il Cristo ma altri osservavano forse che il Cristo viene dalla Galilea non dice la scrittura che il Cristo viene dalla stirpe di Davide e dal villaggio di Betlemme dove viveva Davide si creò allora una divisione fra la gente a causa di lui alcuni avrebbero voluto arrestarlo ma nessuno gli mise le mani addosso le guardie ritornarono dai sacerdoti capi e dai farisei e quelli dissero loro perché non l'avete condotto risposero le guardie nessun uomo ha mai parlato così allora ribatterono loro i farisei anche voi vi siete lasciati ingannare c'è uno solo dei capi o dei farisei che abbia creduto a lui ma questa gentaglia che non conosce la legge è maledetta uno di loro Nicodemo quello che era andato precedentemente da lui dice loro giudica forse la nostra legge qualcuno senza che prima lo si ascolti in modo che si sappia che cosa fa gli risposero sei forse anche tu della Galilea studia a fondo e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea e se ne andarono ciascuno a casa sua grazie a tutti Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e nessuno. Grazie a tutti. 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 Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a 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 tutti. da questo. Grazie a tutti. 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 come io. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io prego, Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. e 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 tutti. e a tutti. e a tutti. e 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 tutti.